200 tesi iscritti, bravo, va che oro, siamo sul vento naturalmente, beh ragazzi siamo contro vento, proviamo a cambiare lato qua ragazzi, bello bello, lo volevo provare da un botto di tempo e direi che ho fatto bene pauroso ragazzi, veramente molto molto bello, non sta in camera, 45 grammi, vedi bene ragazzi, è pazzesco, è enorme, è enorme, saranno 4 metri di getto, pauroso ragazzi che roba, complimentoni Gold Dragon